Quello che è successo oggi è davvero sconcertante e ho pensato di fare un video per ragionare insieme a voi su quello che è successo allora. Qualche ora fa l'account LinkedIn del Senato della Repubblica, cioè account ufficiale, pubblica la sintesi di un dossier. Dossier elaborato dal servizio bilancio del Senato, cioè i tecnici, che si occupano di offrire ai parlamentari degli strumenti utili per esaminare le leggi. Allora che cosa dicono i tecnici? Dicono in questa sintesi che hanno pubblicato su LinkedIn qualche ora fa, l'ho stampata per farvela leggere, e se andate sul suo profilo, sul profilo del Senato di LinkedIn ancora c'è, dice che sostanzialmente si pone la domanda sul reale costo dell'autonomia differenziata e lancia degli alert rispetto alla capacità delle regioni più povere di avere e ottenere maggiori funzioni, quindi sostanzialmente dice che l'autonomia penalizzerà le regioni più povere e quindi creerà maggiori diseguaglianze e ci dice anche che in ogni caso le regioni non potranno farsi carico della compartecipazione dei tributi come fa lo Stato. Quindi ci dice che l'autonomia differenziata è pericolosa, ma non ce lo dice soltanto qui in questa sintesi pubblicata sul sito LinkedIn, e ce lo dice anche all'interno del dossier di cui, ripeto, si servono i parlamentari e gli uffici del Senato per esaminare i progetti di legge. A pagina 5 del dossier pubblicato dal servizio bilancio si legge a proposito dell'articolo 5, quello che parla dei principi per il trasferimento delle funzioni. Si dice che pur premesso che la norma reca disposizioni di principio, con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazione al gettito di uno più tributo, si segnalano in generale alcune criticità che potrebbero derivare dall'utilizzo delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturati nel territorio generale. 1. Nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto di trasferimento potrebbe profilarsi l'eventualità di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali. Cioè le regioni non ce la fanno a farsi carico della compartecipazione ai tributi statali. Le regioni più povere, ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio, potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive. Le risorse attribuite mediante compartecipazione sono influenzate dal gettito e dal tributo erariale. In buona sostanza è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione. In poche parole, quello che ci sta dicendo il servizio bilancio è che questa autonomia differenziata sarà dannosa per le stesse ragioni anche che chiedono maggiore autonomia differenziata, oltre a quelle più povere che non potranno mai chiederla perché non ce la fanno. Questo dossier, questa sintesi è stata ovviamente giustamente ripresa da Repubblica, che nella sua home page pubblicava la notizia così. Il Senato stronca la riforma dell'autonomia regionale rischio di disuguaglianze in aumento e quindi pubblicata questa notizia ci siamo affrettati tutti ad andare a verificare se effettivamente fosse presente questo dossier c'era e vi ho fatto vedere l'articolo 5 che cosa dice. Se non che, all'improvviso, clamorosamente, colpo di scena, qualche minuto fa il profilo LinkedIn del Senato pubblica questo post. Una bozza provvisoria non ancora verificata sul disegno di legge sull'autonomia è stata erroneamente pubblicata online. Il servizio del bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio. Questa è censura. Qui si parla di una bozza non ancora verificata, ma non ancora verificata da chi? Dalla russa o da Calderoli stesso? Questa è roba da ventennio. Ma ci rendiamo conto che i tecnici ci dicono che l'autonomia differenziata è pericolosa e non ci dicono null'altro di quello che già ci ha detto Svimez, di quello che già ce l'ho detto tutti gli esperti che si sono occupati di verificare questa riforma. Se ne accorge anche il Senato ve lo dice, attenzione voi che fate, censurate i tecnici del Senato. Siete senza vergogna davvero, io non ho più parole.